Rischia di siltare ancora di almeno una settimana all'inizio del campionato di Serie C. Il presidente Gravina ha infatti annunciato che secondo lui bisognerebbe aspettare il verdetto del collegio di garanzia del CONI sul ricorso presentato dalle società escluse dal ripescaggio dopo la decisione della Lega di B di non completare l'organico facendo i calendari a 19 anziché a 22 squadre, decisione avallata anche dalla FIGC. Secondo Gravina la partita è ancora aperta e tutto può ancora accadere. Il collegio del Cogna ha respinto la richiesta di sospensione cautelare ma come sottolinea la Ternana fa intendere che al momento risulta ancora in vigore la precedente normativa che prevedeva le 22 squadre poi modificata dalla FIGC pochi minuti prima del varo dei calendari. In più a tutto questo caos si aggiunge anche la volontà dell'asso calciatori di scioperare. C'è unità di intenti dice il suo segretario Calcagno nel portare avanti una protesta che non è nel merito delle decisioni prese ma nelle modalità per le quali sono state prese. Se noi avallassimo un colpo di mano come questo autorizzeremmo chiunque da oggi in poi a poter stravolgere il nostro mondo senza maggioranze che sono previste dallo statuto. Quindi aver cambiato le norme organizzative interne federali in barba allo statuto è un atto che non possiamo accettare. Molti calciatori sono ragazzi di 20 anni prosegue Calcagno che ovviamente non vedono l'ora di riprendere a giocare ma stiamo cercando di fargli capire che le problematiche che adesso non hanno sono problematiche che potrebbero riguardare loro negli anni futuri perché lasciare in mano la discrezionalità di pochi l'intero nostro sistema vuol dire probabilmente consegnarci agli altri. Dunque il caos nel calcio di B e C è tutto fuorché risolto. La B inizierà davvero il 25 agosto, il 22 giorno dei calendari di C. I presidenti decideranno cosa fare, se iniziare comunque tra primo 2 settembre o aspettare che il 7 si esprima alla giustizia sportiva del CONI. Intanto Michele Criscitiello di Sporta Italia lancia un altro allarme per chi si ritroverà alla Juventus Under 23 o Juventus B nel girone e l'Arezzo potrebbe finire proprio nel girone A con i bianconeri. Dovevano fare una squadra di giovani e invece stanno facendo un calcio a mercato piuttosto sontuoso. Inutile fare investimenti per chi si ritroverà alla Juve B nel girone, rileva Criscitiello. Troppa disparità di forza.